Quando una persona perde su tutta la linea e gli scassi praticamente tutto il castello che ha costruito e viene fuori che è un bugiardo, viene fuori che è un calunniatore e viene fuori che non può fare quello che ha fatto fino a ieri con tutte le persone che ha massacrato avendo questo potere di persona che era integra ora è marcia e mi riferisco a te, coglionissimo prima Michael PD poi Massimo il mio pugliese preferito insieme alla Candia Massimone col braccione mi dice è arrivata a farti le mosse, la mossa si dice lo sfottò quando una persona dice pipi pipi tu sei topo gigio e pipi pipi vuol dire che sei arrivata la frutta, ormai fai ridere, blocchi tutti quanti i miei, dovresti bloccarne tanti ma piano piano li stai bloccando tutti e fai le storie così tra un po' le storie ve le farete tu, Martellato, Raponi, Sarchiapino e tutti gli amici tuoi, che coglione